C'è un... andiamo... un veicolo rubato, andiamo noi, andiamo noi, arriviamo? Arriviamo! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, oggi siamo su Spider-Man, io c'ho la mia maglietta e continuiamo la nostra avventura, non mi ricordo cosa dovevamo fare però non mi ricorderò mai mi sa Ah vero, 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 mi sono ricordato in questo momento c'era lo Shocker che stava creando un po' di casini qua e là quindi andiamo, mi sono messo anche la tuta apposta c'è un... andiamo... un veicolo rubato, andiamo noi, andiamo noi, arriviamo? Arriviamo, arriviamo, guardali, maledetti tutti Ti ho preso Ma, eh, vi sbrigatevi per favore Salve Poi? L'altro, no? Via A uno a uno, così, quanti erano dentro quella macchina tra l'altro? Aiaiaiaiaiaia, non mi sono accorto di quella manina Maledizione Via Ok Abbiamo... abbiamo fermato la macchina Circa Circa Non è... non è salvissima però... Al niente Circa... non lo so Ok Però no No, mi piace l'altro posto di più Questo Con la concentrazione perché è utilissima, devo dire Segnalata attività di spaccio in corso Convergere nel List Village Dobbiamo andare a fermare Shocker, quante persone? Dopo, dopo facciamo tutto Facciamo anche gli altri crimini Per il momento c'è lo Shocker che Ha deciso di Farsi vedere Eccolo Salve Sul serio? No, 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 per finta, ragazzi Scusa, sul serio Eh, sei sicuro? Tiri su Ti tiri su Ok Ti ho preso Ci siamo teletrasportati su di lui Però l'abbiamo preso Ok Su, accelerato Sì, non mi sembra Non hai parlato Ho parlato solo io Qui Via, via, via Ah Eh no, così non vale dietro l'angolo però Ragazzo L'ora Guarda Guardate Ti ho preso Ti ho preso stavolta Ti ho preso No Ti ho preso il vantaggio Inseguiamo lo Shocker per tutta la città Prendiamo danni che io schivo Va bene Va bene Grazie Shocker Grazie Ma C'è uno schivo adesso Ma devo tenere premuto? No E allora Vabbè Ma dai Cosa è successo? Mi si è bloccato il gioco Ragazzi Mi si è bloccato il gioco Ragazzi Mi si è bloccato il gioco Non fa più niente Non fa più niente Mi si è bloccato il gioco Devo spegnere E riaccendere Salve a tutti ragazzi Mi si è bloccato il gioco E ho anche notato che a quanto pare la mia action cam non ha registrato nulla di quello Nella prima parte del video Mi scuso Non so bene perché Però Vabbè Mi sono accorto adesso E ciao Adesso ci sono Per cui ora chiudo Chiudiamo la mappa di gioco E iniziamo E continuiamo con lo Shocker Che stavamo inseguendo lui Prima che si bloccasse il mondo Non pensavo di Poter distruggere il gioco così Non me lo sarei mai aspettato Vabbè Però il salvataggio è stato fatto molto bene Perché era esattamente da dove ci siamo lasciati Ti ho preso Ti ho preso maledetto Oh Bravo Bravo Immobilizza tutto Sì in effetti è davvero un bel costume Non ho capito cosa è detto E lo Shocker è stato catturato nuovamente Ottimo Ottimo lavoro Spider-Man Hai scoperto il suo momento Non ha detto nulla purtroppo Sono provato Ma non è un tipo loquace In più credo mi detesti Non è l'unico in effetti Ma tu mi ami Vero Yuri Ti tollero Wow È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto Ok Abbiamo C'è un mozaino Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera Oh MJ Ciao MJ Ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie Stano te lo scelto di Spider-Man Ragazzi ma è bellissimo Sì Era stranamente combattivo Direi che andiamo a recuperare anche quello zaino che ho visto lì Sì 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 Perché ormai siamo qua ragazzi Che fanno? Lo andiamo a prendere Giù di qua Ok La grande Manuale di auto aiuto Ebbene Allora Ci mettiamo in posizione No voglio andare Voglio andare lì su Voglio andare lì su Per salutarci Ci salutiamo come si deve Siamo quasi Però anche quello non sarebbe male No andiamo qui Su velocissimi È bellissimo ragazzi Guardate la mappa Ma incredibile E c'è anche Brooklyn Bene ragazzi Con questa splendida vista Sulla città di New York City Noi ci vediamo al prossimo episodio Ricordate di iscrivervi al canale Di lasciare un bel like E commentare il video Condividetelo con i vostri amici Iscrivetevi anche sulle pagine social Di Instagram Facebook E Twitter E ricorda Batti le mani Schiocca le dita Segui Mazzeus Tutta la vita Iscrivetevi they Scrivetevi Grazie a tutti.